Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono su Rainbow Six Age E oggi andrò a fare la terza partita su 10 Per classificarmi Lasciate like, commentate con il credo che secondo voi raggiungerò E condividete il video Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio Difendete la stanza Rimforzo il muro Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Mancano 10 secondi Restano 5 secondi Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio Il drone nemico Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio Il drone nemico ha individuato il Schmidt un operatore alleato rimasto il nemico si sta impossessando del contenitore ultimo attaccante rimasto in vita impedite al nemico di prendere il contenitore di biorischio hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore vittoria alla difesa nemici eliminati aga vedete come si gioca così voi morite voi morite io mi faccio 3 kill grazie è qua chi era lo scorso ottimo lavoro contenitore di biorischio localizzato è la prima partita faccio vincere il round ancora 10 secondi 10 secondi all'inserimento contenitore di biorischio indipendente che non sono molto io come gli ho forti però archivi ok 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 è ok ok c'è un gius Sì, dai Difensori eliminati, rispettare con tacco riuscita Doppiamo proteggere il contenitore di biorischio, difendete la stanza C'è un gius Siamo a 5 secondi Posizione contenitore di biorischio ignota Tenetelo a sicuro Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Ho rinforzato il muro Il nemico ha individuato il contenitore di biori Cambio caricatore Vittoria alla difesa Un corpo di pompa Dovete trovare il contenitore di biorischio Ben fatto, contenitore di biorischio trovato Ancora 10 secondi 5 secondi all'inserimento Raggiungete la posizione del contenitore di biorischio EMP in uscita Perchè ricarica? Neutralizzate la minaccia Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia 4 a 0 Cioè solo in 3 kill mi sono fatto Ragazzi questo video si conclude qui Raggiungiamo 5 like per la quarta partita E ci vediamo in un prossimo video Valeu Gato 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 Gato